60 giorni per mettere in campo una serie di interventi per la sicurezza dell'area ex lebole. È il comune di Arezzo ad invitare la proprietà ad intervenire dopo i tre sopralluoghi svolti nei giorni scorsi da Polizia Municipale, ASL e Ufficio edilizia. La zona dismessa è ormai da anni in attesa di riqualificazione. Ad inizio agosto all'interno del perimetro della ex lebole si era verificato l'ennesimo episodio di cronaca. Una donna di 38 anni aveva riportato gravi ustioni per un ritorno di fiamma sprigionato da un getto di alcol etilico. La donna pare volesse accendere un fuoco, soccorsa fu portata in condizioni serie al centro grandi ustionati di Pisa. Una vicenda che aveva destato scalpore e portato il sindaco ad emettere le tre ordinanze. Adesso il comune indica alla proprietà tre step nella comunicazione, dunque la chiusura della recensione, eliminando così possibili ingressi dai quali passano gli estrani, l'eliminazione delle strepaglie ed infine la verifica delle strutture. Un intervento ritenuto adesso dall'amministrazione comunale non più rinviabile. La messa in sicurezza a cura dei privati dovrebbe concludersi nel giro di due mesi con i primi interventi a stretto giro.